Ciao a tutti, adesso vi faccio vedere, da noi si chiama Voinkomat, un posto dove puoi andare e iscriverti a fare militare, comunque quando arrivi a 18 anni devi un anno fare militare. E adesso in questo posto qua, Nicolae, noi abbiamo 600.000 abitanti, il nostro presidente ha detto che chiunque, chi vuole, può venire con il passaporto, prendere armi e difendere il nostro paese. Nel tv fanno vedere una marea di gente che viene a prendere armi e andare a combattere contro la Russia. Vi faccio vedere quanta tanta gente, noi abbiamo 600.000 abitanti a Nicolae. e vi faccio vedere chi che viene. Ci sono delle facce, guardate, sulla destra, non so se si vede bene o male, tutta gente, o ubriaconi, o gente, non voglio fermarsi lì perché non devo girare qua, o gli ubriaconi, o quelli che non hanno niente da fare durante il giorno, o gente stupida. La gente con la testa non andrà lì a prendere arma. E poi cosa può succedere? E sicuramente succede. Quando ha gente che non ragiona con la testa, un agente poveraccia che va lì, che tutti i giorni non fa un tubo nella vita sua, con l'arma in mano cosa andrà a fare? Andrà a rubare. Andrà a fare vandolo. Andrà a casa dei altri. Speriamo che di queste persone ci siano pochi che vanno lì a prendere armi. Nel TV il nostro ucraino, lui chiama il nostro presidente, o tra un po' ex presidente, dice venite, venite a prendere armi e dobbiamo combattere e difendere la nostra patria. Ma qualche mese fa lui urlava che abbiamo armi molto potenti, americani aiutano, inglesi aiutano, tutti aiutano, ma gli americani non aiutano, niente. La stazione è nata che si stava costruendo in Occiakiv vicino a Nikolaev, sono 60 o 40 km da qui, è stata già distrutta, non è ancora finita. E il nato non fa niente e non lo farà sicuramente niente. Perché se volevano già entrare, secondo me entravano, perché è passato già un giorno, potevano fare qualcosa. Ma gli americani parlano, parlano, ma nessuno non dice che viene a difendere l'Ucraina. Secondo me non viene nessuno, perché da chi difendere? Come vedete qua, da noi è tutto tranquillo, Sì, non in tutta l'Ucraina, perché in Kharkiv ci sono stati sparatoi, ci sono stati dei morti tra i militari, ma nella maggior parte i militari ucraini hanno appoggiato le armi, perché è uguale che noi oggi andiamo a combattere contro alieni, e non lo so come spiegare la differenza della potenza e del potere dell'armia russa. Perciò speriamo che veramente poca gente va lì a prendere armi, perché ci saranno tanti vandali, tanti ladri, che nessuno con quell'armia non andrà a combattere, ma questa gente stupida andrà a rubare, sicuramente che succederà così. E poi quando cominciano a sparare tra gli ucraini, un punto perché fa questa cosa il nostro presidente? Perché vuole che questa gente prenda armi e va veramente a fare dei casini. E dopo diranno, ah c'è stato un sparatoio lì, c'è stato un sparatoio qua, morta tanta gente, morta tanta gente, l'hanno ucciso russi. Ma di solito ragazzi, in otto anni che c'era stata, tra virgolette, la guerra, l'Ucraina contro la Russia, vi racconto tutto. Cosa è stato veramente? Veramente è successo che la zona è l'energia. Quello tutto è successo nel 2014, mi è finita la memoria in telefono, per questo sono già qui. Sono davanti nel nostro ospedale grosso, non si può entrare con la macchina perché c'è la quarantena, non perché c'è la guerra o c'è qualcosa d'altro. Non arrivano ambulanze, ma redi, ambulanze, qualcosa, perché da noi non c'è stato, c'è stato poco in internet. Allora, quello che dicevo io nel 2014, quando ho iniziato tutto questo casino qua, dal 2014 loro raccontavano che noi combattiamo, su tutti i tv da noi, ogni giorno, ogni giorno, che noi combattiamo contro la Russia, che noi combattiamo contro la Russia. Otto anni contro la Russia. Ragazzi, quando la Russia ha preso la Crimea, perché la gente ha voluto andare, ha voluto andare via, perché hanno visto che cosa è successo nell'NR e DNR, e volevano la Crimea lasciare ai americani, volevano lasciare ai Crimea americani per mettere stazione in NATO, già nel 2014, e la Russia non ha potuto far fare questo a loro. E gente, 90%, è stato fatto il referendum, e 90% delle persone del popolo di Crimea hanno votato per passare sotto la Russia. E la Russia in un giorno è entrata e ha fatto governo, e ha fatto come si deve. E la gente adesso lì vive tranquilla e non ce l'ha tutti questi casino qua. E nel 2014, ogni giorno dicono che noi, Ucraina combatte con la Russia, fino al giorno d'oggi, non è mai combattuto con la Russia. in otto anni, ma ci scherziamo, Putin in otto anni combatte in qualche paese, ma lasciamo stare, guarda, in un giorno, qui abbiamo già visto che cosa è successo, in un giorno, in un giorno l'hanno preso la Crimea con tutto il suo potere di navi, carri armati che c'erano ucraini lì, lì, meno male, non è stato niente bombardato, non sono stati sparatoi, niente. Invece qui, ormai avevamo un po' di, un po' di poveri ragazzi militari che mi dispiaciono, perché alcuni veramente vanno per la patria, perché pensano, pensano di fare, di fare qualcosa. Invece maggior parte è gente che non ha niente da fare e vanno lì perché almeno pagano soldi e li danno da mangiare. e tutta la nostra armia è così, fatta con quella gente lì. Dobbiamo capire che sono stati morti tantissimi agenti del 2014 fino a giorno d'oggi nel territorio LNR e DNR sono state bombardate, non è zone strategiche lì, non sono state bombardate dalla Russia, sono state bombardate da Ucraina, LNR e DNR, sono morti tante agenti civili, tante agenti civili che difendevano le loro famiglie. sono completamente cose diverse che cosa accade oggi in Ucraina. Tanta gente spera che veramente Putin riesce a cambiare tutto nel nostro paese, perché non ce la facciamo più a vivere così. Perché ci sono tanti ucraini che vanno a lavorare in Italia? Perché è bella vita in Ucraina? No. Tanta gente va a lavorare all'estero per poter mantenere le loro famiglie qua, le loro famiglie qua in Ucraina. Non è perché vanno in Italia perché stanno bene, stanno male. E avete sentito anche voi a giorno d'oggi, il gas ha aumentato in Italia due volte e la luce sta salendo ogni mese la bolletta. In Ucraina, ragazzi, il gas già da due anni ha aumentato undici o dodici volte in Ucraina. Gas, dodici volte. E la luce non mi ricordo quindici o diciassette volte, ma noi abbiamo i nostri i nostri stazioni nucleari abbiamo qua in Ucraina, abbiamo il nostro gas qua, abbiamo tutto e si aumenta tantissimo, si è aumentato tantissimo tutto. hanno inventato il trasporto, ma non era mai trasporto di gas e luce in Ucraina perché tutti i villaggi dove sono stati passati i tubi di gas, dove l'hanno fatto i gas, per i tubi, per mettere gas e tutta struttura, hanno pagato i villaggi dai soldi della gente, dalla tasca di loro. e quando è arrivato questo l'ultimo presidente lui ha inventato il trasporto, già paghiamo gas dodici volte in più, in più lui ha messo anche la tassa sul trasporto del gas che è stato fatto con i soldi delle persone, non dello Stato. e con un pensione che ce l'ha un pensionato di 100 euro, 150 euro, no dollari, ancora o meno di euro, come fa a pagare i prezzi di gas e la luce? Poveri pensionati muoiono di fame perché loro pagano, ce l'hanno appartamento, loro, grazie a Dio, non è affittato, loro, perché l'Unione Slovetica gli dava appartamenti a tutti chi lavorava, ce l'hanno i suoi appartamenti, ma non riesce a mantenere appartamento, a pagare le bollette, non riesce, e se lui sta male deve prendere un pensionato, deve prendere le farmacie o mangiare, lui deve pagare ogni mese più di 100 dollari sulle bollette, luce, gas e il condominio, più di 100 dollari e prende pensioni di 100, massimo 150. Come facciamo a vivere? tutti dicono che stavano bene gli ucraini entrato alla Russia a fare male, no, entrato alla Russia qua a liberare il nostro paese, a liberare questi politici di merda, perché non ce l'ho, non ce l'ho altra parola, rubano, rubano ogni anno più di 40 miliardi, 40 miliardi di dollari dallo Stato, i soldi del popolo, 40 miliardi ogni anno.